Ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati e bentornati in questo nuovo video oggi sono qui perchè truccherò papi lui non sa niente anzi lui è di là e ora io ho preparato questa prima palette con dentro tutti questi trucchi poi l'altra palette insomma la preparò a vedere molto 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 meglio quindi prendiamo tutto la andiamo di là io ho dovuto prendere tutto in mano anche perchè c'è tutte le porte chiuse per cui aiuto ok questa ok e ora ok ehi papi ciao cosa stai facendo il video si oggi ti truccherò come mi trucchi ti trucco sei pronto cosa c'hai in mente ciao ragazzi cosa c'hai in mente tante 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 cose ma proprio tante servi aiutami vabbè adesso sistemo tutti i trucchi meglio e e vi faccio vedere che casino che gli combinerò in faccia si cosa mi aspetta cosa mi aspetta si è già tolto gli occhiali ebbè cosa mi aspetta allora devi fare il trucco allora posso chiedere almeno una cosa la posso richiedere vediamo allora gentilmente vorrei il cappello riccio un bel cappello riccio e magari non troppo lungo perché fa caldo si 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 ok allora iniziamo a far vedere i trucchi come dall'inizio vi faccio vedere questo per la palestra ecco guarda che sento mi aspetta poi questa ma io dopo cosa divento la mamma e c'è un altro scompartimento sotto guarda Sally Sally lei è Sally Sally poi infine qui dentro questo scatolino ho messo tutta la roba qui tra cui pennelli e rossetti e tu pensi di usarli tutti? vediamo iniziamo dei colori ben fattati cosa mi tocca fare? cosa mi tocca fare? tanto è questo tanto mettiamola qua un attimino perché devo tirare fuori il pennello si di pennello tiro fuori tutti e tre vado tutti e tre da qui si uno due tre cosa devo fare adesso? l'unica cosa che ti faccio scegliere è il colore dell'ombretto le tonalità la prima sfida la seconda questo cos'è? ombretto degli occhi quindi se c'è il sole io divento ombretto dai scegli scelgo però lo voglio vedere anch'io per cosa questo? per gli occhi cosa scelgo ragazzi? scelgo questo colore qua questo questo qui si dai fammi questo si che colore è? ovo il colore ovo che sarei rovinato questo ok commentiamo così bene iniziamo ok andiamo per gli occhi tre sì ma non così lo devi sì iniziamo dalla parte estriore papà mi non ha che ha molte sopracciglia però sotto vabbè ognuno cioè non mi va di aver nient'altro anche i capelli non è che mi va di aver nient'altro sono guidato ho detto anche i capelli aia mi stai tagliando l'occhio ho preso perché ho preso il schienello quello sbagliato ho preso quello che ho preso per fare le maschere alla mano quello che stai facendo mio papà sai lì sono venuta a premare qui di aracchia di aracchia il schienello è di aracchia è più bella cioè la seconda parte più bella perché ora va un po' di illuminante un po' di illuminante guardate che fashion ti metti il rosetto rosso 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 non mantieni l'acqua da lì guarda avvicinati un po' di più io credo che questo video possa finire anche così cosa c'è ancora l'ultimo facciamo le line la linea bellissima marroncina guardate che baju avvicinati ancora un po' di più sì così devi tentare come stai? come stai? stai ragazzi è bellissima si chiama Maxina? ragazzi arrivederci Maxina è stato bellissimo truccare è stato bello ciao ciao ciao